Buongiorno e benvenuti al Caffe Bor. Un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, MIT di Boston, ha appena raggiunto un traguardo molto interessante e importante nel campo della fisica della materia, riuscendo a intrappolare elettroni all'interno di una struttura atomica tridimensionale, realizzando il primo esempio di materiale con una cosiddetta banda piatta, dove gli elettroni si fermano risultando così intrappolati. Per farlo hanno sfruttato le proprietà della meccanica quantistica e, pensate bene, addirittura di una struttura geometrica nota agli artigiani giapponesi da diversi secoli. Non perdetevi questo video! Ben ritrovati al Caffe Bor. Partiamo con ordine e iniziamo spiegando come si comportano gli elettroni all'interno dei solidi cristallini, cioè dei materiali della struttura condensata che ci circonda. Per farlo voglio utilizzare una metafora. Considerate allora un mercato cittadino, composto da bancarelle, venditori in ciascuna bancarella che vendono i loro prodotti e i passanti che passeggiano qui e là fermandosi in alcune bancarelle comprando i prodotti dai venditori. Secondo questo schema le bancarelle rappresentano gli atomi dei materiali disposti in una maniera organizzata, cristallina, periodica. Dopodiché vi sono i passanti che si muovono qui e là lentamente da una bancarella ad un'altra e questo rappresenta proprio gli elettroni che si muovono da un atomo all'altro. Dopodiché ci sono i venditori che rappresentano appunto i nuclei che vendono la loro merce e questo scambio di prodotto per denaro rappresenta lo scambio di energia che c'è appunto con gli elettroni. Quindi ad esempio possono avvenire degli urti e gli elettroni possono scambiare energia con i vari atomi e i nuclei atomici. Quindi gli elettroni, come i passanti, si possono muovere fondamentalmente in maniera libera fra le bancarelle scambiando eventualmente energia. Questo è quello che avviene per gli elettroni nei metalli. Però non è sempre così. Esiste infatti una particolare struttura geometrica, cioè una particolare disposizione degli atomi all'interno di un materiale per cui gli elettroni possono essere intrappolati e cioè assumono una velocità zero, si fermano all'interno di questa struttura cristallina. E questo tipo di struttura ha un nome ben preciso, Kagome o Kagome, che in giapponese si riferisce a un tipico intreccio che ha una forma di stella con tre sette di linee che si incrociano fra di loro. Il nome Kagome deriva dalla parola giapponese che si usa per indicare i cesti di bambù. E infatti questa specifica geometria è quella che viene utilizzata per intrecciare il bambù o in altri casi anche tessuti per realizzare appunto i cesti. Nella fisica della materia la struttura a Kagome ha una valenza molto importante perché è in grado di influenzare appunto il comportamento e il movimento degli elettroni al suo interno. Gli atomi di una struttura Kagome sono disposti in modo da formare dei triangoli intrecciati che condividono i loro angoli in modo che visti dal di sopra in due dimensioni generano una struttura, una forma esagonale. Questo tipo di arrangiamento atomico fa sì che gli elettroni si debbano muovere in una determinata configurazione e talvolta possono addirittura fermarsi. Questo perché questo tipo di struttura favorisce la creazione delle cosiddette bande piatte dove la parola banda si riferisce alla banda di energia cioè alla funzione che rappresenta l'energia in funzione appunto della lunghezza d'onda dell'elettrone. E il fatto che sia piatta significa che più elettroni con diverse lunghezze d'onda hanno tutti la stessa energia. La velocità in questo caso degli elettroni è nulla. Ora ritornando alla metafora precedente del mercato cittadino con le bancarelle è un po' come se in alcune zone le bancarelle si disponessero in una forma molto particolare in modo da attirare maggiormente i passanti che rappresentano gli elettroni e per così dire catturare la loro attenzione e farli appunto fermare. Quando gli elettroni quindi si trovano ad essere per così dire catturati all'interno di questa struttura Kagome possono interagire maggiormente secondo quanto ci dice anche la meccanica quantistica ed è per questo che questi materiali possono avere proprietà molto speciali come per esempio anche la superconduttività cioè in pratica gli elettroni possono in questo modo accoppiarsi e muoversi senza ostacolo quindi in modo cooperativo come appunto avviene nei superconduttivatori. Veniamo ora al risultato sperimentale dei ricercatori dell'MIT. I ricercatori dell'MIT sono riusciti a realizzare questo speciale reticolo in tre dimensioni riuscendo quindi a catturare completamente gli elettroni e a osservare questa loro caratteristica di avere una banda energetica appunto piatta. In particolare hanno osservato tre punti cioè tre zone diciamo così di energia dove questa particolare condizione di banda piatta si verificava. Ora un risultato analogo era già stato ottenuto in precedenza in un materiale bidimensionale cioè in uno strato piatto di atomi in cui gli atomi erano disposti solamente su un piano un po' come il grafene per intenderci. In questo caso però era stato osservato che gli elettroni potevano scappare per così dire da questo piano di atomi al di sopra o al di sotto quindi all'estremità lungo la terza dimensione spaziale trattandosi appunto di un materiale bidimensionale. In questo caso invece i ricercatori realizzando appunto questo materiale tridimensionale sono riusciti ad ovviare a questo problema. Per farlo però hanno dovuto utilizzare una particolare tecnica di fabbricazione fondendo calcio e nickel ad alta temperatura e poi raffreddando la miscela così ottenuta ottenendo un materiale che è un metallo pirocloro in cui gli atomi si sono auto organizzati proprio in questa struttura a cagome. Dopodiché per studiare e vedere gli elettroni, il comportamento dell'energia degli elettroni all'interno di questo materiale hanno realizzato una cosiddetta spettroscopia di fotoemissione angolare. Quindi in pratica utilizzando la luce, per questo viene chiamata fotoemissione, sono stati espulsi diciamo così gli elettroni da questo materiale e poi una volta estratti è stata misurata per così dire la loro energia. E questo è stato fatto in modo angolare, cioè da diverse angolazioni rispetto al materiale, per appunto studiarne il comportamento in tutte e tre le dimensioni spaziali. In questo caso quindi non solo la preparazione tecnica, la realizzazione del materiale è stata complessa, ma anche lo studio delle proprietà stesse. Perché realizzare una spettroscopia fotoemissione in tre dimensioni è ovviamente molto più complesso rispetto ad un materiale bidimensionale, così come lo studio degli stessi grafici raccolti, dei dati raccolti, è più difficile da interpretare rispetto ad un grafico bidimensionale. E per fare questo hanno analizzato il comportamento lungo specifiche direzioni, quindi lungo specifiche traiettorie nelle tre dimensioni, con una particolare simmetria. In questo modo è più facile anche visualizzare il comportamento delle energie lungo queste specifiche traiettorie. Le simulazioni numeriche poi, realizzate utilizzando la teoria del funzionale densità, hanno confermato questi risultati sperimentali. Questa scoperta quindi sicuramente è un punto cardine per la fabbricazione e lo studio di questo tipo di materiali con questa struttura Kagome, ma non è solamente una prova di principio. È infatti una vera e propria porta aperta verso ulteriori studi e anche realizzazione di questi materiali anche proprio per applicazioni pratiche, sia per realizzare per esempio superconduttori, ma anche in generale una elettronica, per esempio, più veloce ed efficiente. E con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. In questo caso lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questo video con i vostri amici. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao, alla prossima!